La nuova stazione metro di Piazza Municipio è in realtà la linea 1 dopo 10 anni ha visto finalmente la luce, un'opera all'avanguardia che unisce bellezza e funzionalità, dotata di comfort e servizi, è un gioiello nel cuore di Napoli che va ad aggiungere un ulteriore tassello alla rete dei trasporti nella città partenopea. Il countdown è terminato, quello che vedete alle mie spalle è la nuova fermata della metro linea 1 di Piazza Municipio. Dai dipinti alle scale mobili, la nuova stazione guarda al futuro e soprattutto al contesto in cui è inserita. Sarà aperta ufficialmente il prossimo 2 giugno, quando cittadini e pendolari ne potranno soffrire pienamente. E siamo all'interno della nuova stazione della linea 1 della metro di Piazza Municipio, un'opera davvero avveneristica, ricca di particolari e dettagli interessanti. Un fiore all'occhiello non solo per Napoli ma per tutto il mezzogiorno. Per completare l'opera che si estenderà verso Capodichino saranno necessari altri 5 anni. Poi la metropolitana di Napoli sarà completa e rappresenterà uno dei massimi modelli architettonici nel mondo. Ma quella inaugurata stamane è solo una parte della nuova stazione. Per avere il lavoro completo ci vorranno almeno altri 5 anni. Vedete qui alle mie spalle il cantiere che fa da sfondo al maschio angioino. Un'opera davvero imponente.